Sono stati prorogati i termini per la partecipazione al bando del Ministero della Transizione Ecologica, ex Ministero dell'Ambiente, destinato alle micro e piccole imprese che operano nelle aree protette, quindi nelle ZEA, ossia nelle zone economiche e ambientali, come da proposta del Parco Nazionale Cilento, Vallo di Diano e Alburni. Le ZEA sono nate riconoscendo le difficoltà affrontate dalle imprese operanti nelle aree protette, tra vincoli e restrizioni, a tutela dell'ambiente, determinando anche un aggravio di spese. Da qui l'idea di istituire le zone economiche speciali nelle aree protette. Ora, con l'emergenza Covid, la situazione economica di molte imprese si è aggravata. In loro aiuto è arrivato il bando del Ministero dell'Ambiente, pubblicato lo scorso 1 febbraio e destinato alle micro e piccole imprese delle ZEA che nel 2020 hanno subito ingenti perdite nel fatturato per un importo complessivo del bando di 40 milioni di euro da destinare alle micro e piccole imprese attività che si occupano di guide escursionistiche o guide del parco. Nei giorni scorsi è poi stata emessa la proroga dei termini che dal 15 marzo, inizialmente previsti per la presentazione delle domande, è stata portata al 14 aprile 2021. Una proroga utile per venire incontro alle esigenze dei piccoli imprenditori del Parco del Cilento, Vallo di Diano e Alburni, che potranno presentare le domande per accedere ai contributi. Operazioni che per Salvatore Iannuzzi, presidente della Comunità del Parco, necessitano di sostegno burocratico e, per tale ragione, propone l'istituzione di uffici ZEA in tutte le aree protette che potranno aiutare nell'espletamento delle pratiche per partecipare al bando del Ministero. Grazie all'ex ministro dell'Ambiente Costa, spiega il presidente della Comunità del Parco, lo scorso anno siamo riusciti ad ottenere l'istituzione delle ZEA che prevedono misure di defiscalizzazione capaci di compensare i costi eccessivi che le aree protette pagano in termini di vincoli e restrizioni. Siamo orgogliosi, continua, di essere stati promotori di questa iniziativa che apre agli aiuti per le imprese locali, ma adesso bisogna aiutare i cittadini ad accedere alle risorse attraverso uffici dedicati alle ZEA. Un aiuto che può arrivare, secondo Iannuzzi, attraverso professionalità formate proprio per aiutare le imprese ad accedere ai fondi riservati alle ZEA. Uffici dislocati nelle diverse realtà territoriali, spiega Iannuzzi, saranno indispensabili per non rendere vana la fruizione dei finanziamenti delle ZEA e i macroscopici sforzi profusi dalla Comunità del Parco Nazionale per giungere a tanto.